Cinque tassisti abusivi sono stati individuati nel corso di un servizio straordinario di controllo svolto dagli agenti della squadra mobile e dalla polizia locale nella zona adiacente al palazzo della Triennale a Milano, molto frequentata nel fine settimana per la presenza di numerosi locali. I poliziotti in abiti civili hanno individuato i tassisti abusivi con un servizio di appostamento e osservazione e hanno poi proceduto a fermarli e accertare l'attività illecita anche acquisendo le testimonianze dei clienti. Successivamente la polizia locale ha provveduto alle contestazioni amministrative. Durante il servizio sono stati sottoposti a controllo a ventori dei locali frequentatori della zona e nonostante la minore concentrazione dovuta alla pioggia battente i poliziotti hanno identificato 100 persone di cui 10 sono risultate avere a loro carico precedenti di polizia e denunciato in stato di libertà un italiano per aver utilizzato uno spray urticante a seguito di una lite nei pressi di un chiosco. Il servizio è stato disposto in seguito alle determinazioni assunte in prefettura dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e dopo un tavolo tecnico tenuto sin questura lo scopo di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica nella zona oggetto di recente e di numerose segnalazioni.